Con responsabilità, partecipazione e comunione ruota attorno a questi tre pilastri l'appuntamento al Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso che vede riuniti per la prima volta gli economi, direttori degli istituti diocesani del sostentamento del clero e gli incaricati diocesani del sovvenire Lombardi per un momento di condivisione, un'occasione per percorrere insieme il cammino sinodale che vedrà anche altri appuntamenti oltre la Lombardia. Sono il segno evidente della necessità di far davvero sinodo, cioè trovarci insieme, fermarci lungo il cammino per affrontare insieme le realtà della vita, delle risorse economiche delle nostre comunità cristiane. Sul tavolo il sostentamento del clero sono oltre 32.000 i sacerdoti diocesani in Italia remunerati grazie all'otto per mille grazie alle offerte deducibili. Queste ultime contribuiscono per meno del 2% al fabbisogno di quasi 515 milioni necessario coinvolgere la comunità. Non c'è soltanto un'esigenza che riguarda favorire la firma per l'otto per mille ma anche l'esigenza di aiutare e favorire le offerte liberali che vengono date all'Istituto per il sostentamento del clero ma anche naturalmente favorire tutta quell'attenzione che la comunità ecclesiale nel suo complesso deve avere alla vita e alle risorse della comunità locale. Quando io sento che la Chiesa è la mia famiglia, la famiglia di famiglie, come ci si preoccupa in una famiglia del sostentamento e dell'educazione dei figli che ha anche dei costi materiali, così ci si preoccupa anche che la Chiesa possa servire al meglio la sua missione anche nella concretezza.